Centinaia di migliaia di fedeli vestiti con un semplice manto bianco sono arrivati in pellegrinaggio alla Mecca. Nella città santa dell'Arabia Saudita sono i giorni dell'Aj, uno dei cinque precetti dell'Islam, che costituisce il più imponente raduno religioso al mondo, con punte di tre milioni di persone provenienti da ogni angolo del pianeta. E' il mio primo viaggio in Arabia Saudita, racconta questo pellegrino libico. Spero e prego per il nostro ritorno in Siria e per i miei cari che non vedo da tre anni, dice questa donna. Nel viaggio verso la Mecca i credenti toccano diversi luoghi sacri, come il monte Arafat, per terminare al Majid al-Aram, la più grande moschea del mondo. Il pellegrinaggio quest'anno è accompagnato da tutta una serie di misure di sicurezza extra, per proteggere i fedeli da due virus mortali, l'ebola e il coronavirus MERS, che in Arabia Saudita ha già fatto 300 vittime. Ma le autorità sono anche allerte in caso di attacchi terroristici.